Ecco, e qui andiamo in un vero e proprio lancio di una linea, anche se in realtà questa linea, possiamo dire che era già stata pubblicizzata nel 1976, infatti questa linea Dimensione Uomo del Dottor Cicarelli è stata lanciata nel 1976, ma qui nel 1982 ritroviamo nuovamente la linea presentata al pubblico, linea che peraltro, ricordo benissimo, si poteva trovare sia in profumeria che in farmacia, quindi questa è una linea che si poteva veramente trovare dovunque, perché le profumerie erano tantissime all'epoca e anche le farmacie, perché veniva venduto anche in farmacia? Perché Dottor Cicarelli era un'azienda che produceva farmaci e tra i farmaci invece aveva anche una linea di cosmesi per lui e per cui aveva trovato questa linea, questo escamotage per essere venduto anche in farmacia. E qui vediamo la bellissima linea, peraltro scomparsa da 30 anni, con un profumo delizioso, vi posso garantire, con ovviamente, avevamo qui la linea da barba con il tubetto di crema da barba da montare con il pennello, il dopobarba vaporizzatore si poteva spruzzare sul cavo della mano e poi messo sul volto, la classica schiuma da barba spray e il dopobarba alcolico in splash. Poi avevamo qui la saponetta con il portasapone, avevamo qui bagno doccia e shampoo con la medesima fragranza della Eude Cologne, poi qui avevamo vari formati di Eude Cologne, 200-150 ml, oppure vaporizzatore o addirittura si poteva trovare le bustine contenenti le salviette umidificate al profumo di Eude Cologne per poter essere messa sul collo, sul volto, per rinfrescarsi e avere nuovamente il profumo della colonia messa al mattino. E qui avevamo la pochette da regalo e poi qui avevamo la linea di deodoranti spray, oppure spray no gas, oppure in stick. E andiamo a leggere che cosa dice questo lancio. E' indubbio che i cosmetici oggi non rappresentino più un genere frivolo e di lusso, bensì qualcosa che deve far parte della necessità quotidiana dell'uomo, l'uomo moderno, privo di ogni preconcetto al riguardo. Ed è il resto conscio del fatto che una maggiore cura estetica ed igiene non è materia di snobismo, ma un diritto e un dovere sociale. Dimensione uomo, ad esempio, non è solo un'acqua di colonia, è anche una linea completa, classica e moderna al tempo stesso, che soddisfa le diverse esigenze della toilette maschile per la vasta gamma di prodotti. Essi infatti costituiscono, dando un tocco in più alla raffinatezza, alla propria eleganza, gli essenziali per ogni giorno. E poi, appunto, qui vedete, qui sotto si dice, nella grande tradizione della profumeria di dimensione uomo, prodotta dalla farmaceutica Dottor Ciccarelli, è una linea che si compone di acqua di colonia, una mescolanza ben equilibrata di erbe e di legni pregiati in vari formati. Abbiamo i fazzolettini rinfrescanti, sempre utili nel cruscotto dell'auto, il pre-barba per chi usa il rasoio elettrico, a questo l'avevo dimenticato, il pre-barba, giustamente che faceva drizzare i peli prima della rasatura elettrica, crema o schiuma da barba e dopo barba per chi usa il rasoio a mano, poi sapone e schiuma da bagno e doccia. Deodorante nelle versioni spray e stick è praticissima la busta da viaggio nella quale si può riportare tutto ciò che si è abituati a portare con sé. È una delle numerose confezioni da regalo della linea dimensione uomo Ciccarelli, un modo certo invitante per essere freschi e ben curati ogni giorno. Quindi dimensione uomo Ciccarelli, qui purtroppo è in bianco e nero, ma il flacone era Bordeaux, tappo nero con l'etichetta Bordeaux, ecco, e scritta oro.